Scoperto in pieno centro a Catania dagli agenti del commissariato di Borgogna un centro estetico a Luciros gestito da una donna cinese. Indagata in stato di libertà la titolare XH, queste le iniziali per i reati di sfruttamento della prostituzione, false attestazioni a pubblico ufficiale e impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno. Il locale è stato sottoposto a sequestro penale preventivo. In circostanza i poliziotti hanno anche proceduto al sequestro penale dei proventi derivanti dall'attività di prostituzione di quattro telefoni cellulari le cui utenze telefoniche rimandavano a siti escort trans e altra documentazione attestante il collegamento del centro all'attività illegale di prostituzione. Identificati diversi clienti stranieri e italiani che hanno confermato di aver corrisposto una somma di denaro in cambio di massaggio con prestazione sessuale finale, 50 euro per 60 minuti, 30 euro per 30 minuti. A richiesta, la titolare avrebbe anche garantito durante il massaggio un intrattenimento musicale con uno strumento tipico cinese. Data la mancanza di autorizzazione comunale, sul posto è intervenuto anche il reparto annona della polizia locale che ha contestato la mancanza dell'iscrizione all'albo artigiani e dell'autorizzazione oltre all'esposizione di cartellonistica pubblicitaria sulla strada pubblica senza la prescritta autorizzazione. Riscontrati anche diversi reati in materia di salubrità e sicurezza sui luoghi di lavoro e la mancanza di attestati di formazione.